dopo il vento i blackout ancora tanti guasti elettrici nel pesarese pesaro piange patenta morto a 90 anni luigi pieri rinasce il depuratore di cantiano distrutto dall'alluvione qualità della vita pesaro urbino al 25esimo posto in italia la collezione di luciano battisti regala pesaro il museo delle moto buonasera benvenuti al nostro telegiornale oggi è lunedì 4 dicembre e in questo fine settimana come avete visto sui nostri social vi abbiamo dato notizia dei vari danni e dei disagi creati dalle forti raffiche di vento che nella notte fra venerdì e sabato hanno colpito il nostro territorio maltempo che ha avuto anche uno strascico di guasti elettrici durati fino alla giornata di oggi come in tanti ci avete segnalato proprio la nostra redazione allora partiamo con questo servizio dopo il vento il buio ed il freddo a due giorni di distanza dalle maxi raffiche di vento che hanno fatto strage di alberature mutilato la viabilità e procurato danni a diversi stabili continuano gli strascichi della problematica pesaro sotto forma di interruzioni di energia elettrica ancora questa mattina vi erano abitazioni senza correnti in alcune periferie della città in particolare nelle zone di burgo santa maria di ponte valle santa veneranda dove l'enel solo nella giornata odierna ha completato il ripristino di tutte le utenze a bassa tensione dopo il ripristino di quelle a media tensione in mezzo weekend senza corrente per tante periferie e in alcuni casi senza riscaldamento per diverse famiglie blackout ma anche danni in diverse strutture spicca il caso di fiorenzuola de focara dove è stato completamente scoperchiato il tetto dell'ex palazzo comunale col vento che ha spezzato le travi in legno facendo volare la copertura in lamiera che ha danneggiato antenne e tetti delle abitazioni disposta anche un'ordinanza comunale di divieto al transito pedonale nel borgo per i non residenti ed ora cambiamo argomento perché è morto all'età di 90 anni luigi pieri da tutto conosciuto come patenta soprannome con cui dal dopoguerra fino ad oggi pieri era stato etichettato come il re indiscusso della porchetta generazioni di pesaresi si sono serviti nel suo punto di produzione e rivendita alimentare nella zona monte labattese di chiusa di ginestreto pieri aveva compiuto 90 anni lo scorso agosto e da tempo era ricoverato a galantara per problemi di salute una giornata molto importante quella di oggi una giornata di ripartenza quella vissuta proprio dal comune di cantiano marche multiservizi ha infatti inaugurato il rinnovato depuratore a servizio dell'area in prossimità del catria dopo che la precedente struttura era stata gravemente danneggiata dall'alluvione di settembre 2022 oggi con questa inaugurazione credo che sia un segnale importante di rinnovamento di ripartenza abbiamo rimesso a nuovo il depuratore del capoluogo quindi credo che sia un primo intervento che è costato circa 530 mila euro che fa parte degli interventi di sommurgenza che in questo comune abbiamo speso circa un più di un milione di euro da subito l'azienda si è si è messa a disposizione con i suoi uomini per ripristinare un minimo di situazioni insomma di igiene minimali appunto ma ora oggi abbiamo ripristinato in maniera completa ma siamo pronti anche andare oltre fare in modo che con gli interventi e con le somme che verranno messe a disposizione della struttura commissariale potremmo insomma non dirò mettere sicurezza in maniera completa da questi eventi però far sì che le reti gli impianti di questo territorio perché non parliamo solo di cantiamo parliamo di territorio più vasto insomma possono essere messa a sicuro rispetto ad altre possibili situazioni di questo tipo che si dovessero verificare nel futuro quella di oggi è una giornata importante in cui ridoniamo alla comunità un servizio essenziale legato alla depurazione delle acque che torna a essere pienamente funzionale dopo quel tragico evento del 15 di settembre ecco con una prospettiva che guarda con fiducia al futuro ecco stiamo collaborando con la struttura commissariare legionale per cercare di accelerare la messa a terra delle risorse per poter mitigare il rischio e quindi mettere in sicurezza e dare certezza che quanto è accaduto non possa riaccadere soprattutto anche come ecco ringraziamento a quanti hanno voluto che Cantiano non si fermasse a quanti hanno riaperto a quanti sono ritornati nelle proprie abitazioni quindi ecco dobbiamo accelerare su questo intervento di pulizia dei fiumi e creazione di opere spondali che possano ecco mettere in sicurezza il territorio entro fine anno c'è la scadenza per la presentazione delle domande che poi come lei sa dovranno essere tutte rendicontate alla protezione civile dopodiché ci sarà il fatto proprio economico e finanziario che i danni la seconda trascia di danni verrà ristorata alle famiglie alle imprese che sono state colpite abbiamo immesso sul territorio circa 70 milioni di euro più altri 20 milioni per gli interventi di somma urgenza siamo pronti con una cifra importante accantonata superiore ai 100 milioni di euro per i ristori non appena si concluderà questa fase di ricognizione al 31 dicembre poi ci saranno 45 giorni per l'istruttoria da parte dei comuni e poi il 2024 si apre con il discorso importante delle opere strutturali con il piano il commissario che supera i 100 milioni di euro che andrà in approvazione definitiva fra qualche giorno è stata pubblicata oggi la consueta indagine del sole 24 ore sulla qualità della vita in italia pesaro urbino in questo 2023 si conferma al 25esimo posto fra le province italiane in cui si vive meglio esattamente lo stesso piazzamento del 2022 anno in cui pesaro registrò un miglioramento di ben 30 posizioni secondo il sole 24 ore si vive leggermente meglio ad ancona 24esima e prima delle province marchigiane è una classifica italiana in cui per la prima volta si piazza al primo posto udine seguita dalle conferme di bologna al secondo posto e trento al terzo centosettesima è la provincia di foggia all'ultimo posto per qualità della vita la classifica è la media di tanti parametri analizzati pesaro ad esempio spicca in positivo per giustizia e sicurezza collocandosi addirittura al sesto posto in italia mentre è sedicesima per ambiente e servizi male invece per affari e lavoro dove è 82esima ed oggi come ogni 4 dicembre si è tenuta la cerimonia di santa barbara patrona protettrice dei vigili del fuoco e della guardia costiera ricorrenza che questa mattina pesaro è stata celebrata alla chiesa di santa maria del porto dal vescovo sandro salvucci la cerimonia ha visto presenti il personale pesarese dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto oltre a delegazioni delle altre forze armate alla presenza anche del prefetto emanuela saveria greco e del questore raffaele clemente al termine della messa il vescovo ha benedetto una corona di fiori donata dall'associazione nazionale vigili del fuoco e dall'associazione nazionale marinai d'italia al termine della cerimonia i vigili del fuoco hanno posizionato l'omaggio floreale con l'autoscala in cima alla chiesa ai piedi della statua della madonna della scala nelle strutture riabilitative del territorio ci sono posti letto disponibili ma non vengono utilizzati per un budget di risorse insufficienti stanziate dalla regione una situazione che aumenta il carico di presenze negli ospedali come spiega oggi il consigliere regionale andrea biancani che è intervenuto proprio ai nostri microfoni nel consiglio regionale di domani 5 dicembre andrea biancani porta l'attenzione una nuova carenza di risorse che va a incidere pesantemente sulla sanità marchigiana sì devo dire che mi sono accorto che per il mese di dicembre la regione marchia ha completato il budget per quanto riguarda le persone che ad esempio sono attualmente ricoverate all'ospedale che hanno avuto un'operazione ortopedico oppure un altro tipo di operazione ed hanno bisogno di andare ad esempio nelle strutture di villa fastigi di macerata feltri a cagli o per la riabilitazione o un rsa o per cure intermedie queste persone vengono mantenute all'interno dell'ospedale perché i posti letto ci sono rimangono vuoti ma non ci sono le risorse appunto per portare queste persone per far sì che prima di andare a casa possono passare un periodo intermedio all'interno di queste di queste strutture che sono nate apposta quindi quello che sta avvenendo è che vengono occupati i posti letto all'interno dell'ospedale le operazioni vengono inviate perché i posti letto sono occupati e dall'altra parte quelle strutture che dovrebbero raccogliere le persone che devono uscire dall'ospedale perché ricordo che un paziente in ospedale ha un costo anche eccessivo rispetto al costo che invece ha in una di queste strutture ad esempio villa fastigi vengono mantenuti all'interno dell'ospedale appunto per carezza di risorse dal mio punto di vista è veramente una scelta sbagliata e ho chiesto alla regione di ripristinare immediatamente le risorse che servono perché è assurdo che questi pazienti vengono mantenuti mantenuti all'interno dell'ospedale ed ora nel prossimo servizio andiamo a scoprire un luogo straordinario della città di pesaro inaugurato proprio questo fine settimana parliamo del museo delle moto nato dalla collezione privata dell'imprenditore luciano battisti venuto a mancare nove mesi fa il rombo di tuono gli applausi la commozione il museo delle moto sognato da luciano battisti è diventato realtà sabato a villa fastigi è stato tagliato il nastro ad un luogo straordinario il luogo del sogno di una vita quella di luciano battisti ex titolare della radiant venuto a mancare lo scorso marzo battisti imprenditore illuminato con la moto nel sangue quella che l'ha visto prima affermato pilota poi collezionista senza eguali ora le sue 216 moto storiche vengono racchiusi in uno scrigno che apre la sua collezione privata a beneficio della collettività rendendola un museo che luciano aveva iniziato a costruire nell'attuale stabile di via divisione legnano ma che non è riuscito da completare un desiderio portato a termine dalla famiglia dalla moglie graziella al nipote enrico assieme a tanti sostenitori a cominciare da museo e registro storico benelli speriamo solamente di aver soddisfatto il suo desiderio un'emozione unica e niente da dire dai speriamo veramente che sia abbiamo fatto il massimo ecco quello che potevamo fare famiglia commossa è sostenuta dagli applausi di ex piloti autorità in una cerimonia di inaugurazione condotta da paolo conti amico di luciano e curatore del suo libro un sogno la vita il museo raccoglie le moto che sono state importanti per luciano battisti ovvero la collezione completa delle alpino ma perché perché il papà era una volta era il distributore oggi è il concessionario sarebbe stato un concessionario dell'alpino pino era un'azienda di stradella provincia di pavia il papà ne era il distributore per pesaro e quindi luciano ha voluto raccogliere tutte quelle che hanno le moto che ha conosciuto da bambino ed erano appunto le moto che distribuiva al papà poi ci sono ovviamente le benelli moto b che sono le moto con cui luciano è cresciuto motociclisticamente questo al piano terreno poi invece al piano superiore ma il piano superiore proprio perché sono in fondo le moto superiori sono le moto da corsa che sono state le moto o di piloti pesaresi come quella di eugenio lazzarini o le moto con cui ha corso luciano o hanno corso i suoi avversari dell'epoca della sua attività agonistica quindi tu al piano superiore trovi per esempio una bella raccolta di yamama moto importanti moto blasonate moto da leggenda moto da titoli mondiali dalle yamadi eddy loson cadalore rid alle benelli di caruters grassetti e pasolini fino alle gemme della collezione delle benelli di arno sarinen e mike elwood ad applaudire il museo tantissimi ex piloti molti dei quali hanno voluto raggiungere pesaro per l'occasione campanelli lazzarini pierpaolo bianchi gallina mangione consalvi e bonera oltre alla presenza del presidente dell'auto moto club storico italiano alberto scuro sono felicissimo di essere venuto a questa inaugurazione perché conoscevo luciano era una persona fantastica che trasferiva emozioni e questa stessa emozione è riuscito a far sì che venga trasferita anche oggi con una visita ad un museo che è capace di narrare una serie di storie incredibili di campioni di moto di marche che hanno fatto realmente la storia del motorismo in questo caso a due ruote ora la collezione diventerà un museo non aperto in maniera permanente ma con un programma di visite ancora da costruire e calendarizzare questo è una collezione che luciano ci ha messo una vita a crearla parliamo di centinaia di motociclette con un valore inestimabile alcuni pezzi unici a livello nazionale internazionale che luciano riuscite raccogliere a tenere insieme realizzare questo museo un regalo per la città e non solo per tutto il territorio una persona che ci teneva oggi sarebbe stato contento di essere qui con noi a inaugurare questo spazio purtroppo non ce l'ha fatta ma la famiglia e tutte le persone i parenti ma anche gli amici si sono stretti tutti intorno a un tavolo e sono riusciti a realizzare questo che era appunto un sogno di luciano battisti è un'altra perla che si aggiunge alla collana delle nostre del nostro patrimonio motoristico unitamente al benelli e tante altre collezioni che sono sul territorio questo è veramente un grande regalo che luciano battisti e la famiglia hanno fatto diciamo a tutta la nostra collettività e sarei a livello nazionale perché una collezione come questa non è facile trovarla in giro per l'italia e allora davvero complimenti a tutta la famiglia battisti per avere creato questo museo veramente straordinario e adesso cambiamo ancora argomento perché a palazzo montani antaldi il coni provinciale ha consegnato sabato le benemerenze i premi al merito sportivo che ogni anno vengono assegnati come riconoscimento ai risultati e alle carriere spese in ambito sportivo soprattutto di quelle discipline meno esposte ai grandi riflettori mediatici 39 i riconoscimenti assegnati quest'anno ad atleti tecnici e dirigenti alla presenza del presidente regionale del coni fabio luna fra questi da segnalare il premio terzo censi per l'atleta esemplare assegnato alla diciassettenne fanese alice pagliarini per i suoi precoci risultati di rilievo internazionale nell'atletica leggera e dalle premiazioni passiamo ai risultati sportivi di questo fine settimana come di consueto nel telegiornale di lunedì facciamo un po la sintesi e allora nel prossimo servizio vedrete i risultati di vl vispesaro italservice e megabox valle foglia a chiudere il weekend dello sport pesarese è stato il 61esimo derby di passione fra vispesaro e rimini 1 a 1 il punteggio finale in un derby aperto dallo spettacolo della coreografia pesarese in onore del 125esimo compleanno della società alla fine alla vista resta l'amaro in bocca di una partita tenuta in vantaggio per 77 minuti quelli che hanno diviso fra l'1 a 0 del giovane nina in gol dopo un minuto e mezzo con conclusione da fuori aria deviata e il pareggio al 78esimo di bomber morra che in sospetto fuori gioco è stato lesto a ribattere in rete una punizione di lamesta che polverino aveva deviato sulla traversa due acuti in mezzo a un derby condito da occasioni legni e scelte arbitrali dubbie nella pallavolo invece arriva la prima vittoria pesaro della megabox valle foglia che strappa tre punti d'oro davanti al proprio pubblico firmando la seconda vittoria consecutiva ai danni del bisonte firenze finisce tra uno coi toscani che vincono il primo set 21 a 25 dopodiché la megabox gioisce coi parziali di 25 a 18 25 a 15 e 25 22 decisivo ritorno in campo di coschleva ad accompagnare le grandi performance di mingardi e alexic nel basket invece la vuole aveva perso nettamente a reggio emilia nell'anticipo del sabato 101 a 68 il punteggio finale in favore del luna hotels che ha approcciato meglio la gara da subito creando un solco importante per tutto il primo tempo vuole riemersa solo nel terzo quarto arrivando a meno 6 dagli avversari ma per la squadra di buscaglia ex di turno è stato un fuoco di paglia continua invece il buon momento dell'ital service che nella massima serie di calcio a 5 vince 2 a 0 a cosenza centrando il secondo successo consecutivo e il quinto risultato utile di fila che leva pesero al quarto posto i gol di toni d'andelle canal nel secondo tempo firmano una vittoria da squadra matura eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale ma restate con noi perché subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale quindi intorno alle 20 vi mostreremo l'inaugurazione dei nuovi laboratori tecnologici all'interno dell'istituto alberghiero santa marta e poi invece in prima serata avremo alle 21 e 20 un racconto del in collaborazione con l'arte del riposo sull'importanza del dormire bene ma attenzione perché subito dopo insomma potete vedere con grande orgoglio da parte nostra i festeggiamenti del sesto compleanno di rossini tv festeggiamenti che come vedete hanno radunato non solo lo staff di rossini tv ma anche i nostri clienti e le autorità e quindi questa sera vi racconteremo al meglio questo evento e poi vi ricordiamo che da domani parte un nuovo programma targato rossini tv si chiama sinfonia di maestri il racconto dell'orchestra sinfonica rossini e quindi domani vedremo come ospiti enrico barchetta e norris borgogeli e vi racconteremo chiaramente i prossimi spettacoli e concerti e invece mercoledì un altro nuovo programma di rossini tv con la megabox valle foglia quindi mercoledì alle 21 e 20 andremo a conoscere lei che è beatrice gardini che la schiacciatrice della megabox valle foglia invece domani io vi aspetto puntuali alle 7 e 20 se vi sveglierete a quell'ora saremo in diretta sul canale 80 e in diretta anche sui nostri social e sulla nostra applicazione ma potete rivedere le repliche anche alle 8 e 20 a mezzogiorno e 20 alle 14 e 20 alle 18 e 20 mentre il telegiornale torna domani alle 19 e 30 io vi auguro buona serata